Senatore Gianni Berrino il primo festival da senatore dopo anni da assessore regionale al turismo e dopo anni da Sanremese insomma un'esperienza nuova diciamo che l'ho vissuto in tutti i modi il festival che l'ho vissuto da ragazzo da spettatore poi l'ho vissuto da vice sindaco poi l'ho vissuto da consigliere comunale poi da assessore comunale poi da assessore regionale e adesso da senatore diciamo che sono sono cresciuto con il festival come giusto che sia per un Sanremese con la passione per la musica quest'anno finalmente dopo due anni di insomma di festival non normale a causa del covid siamo tornati ad un festival come si deve scoperto perché così è finalmente con tanta gente in città e finalmente si sta anche realizzando questo questo progetto di festival aperto alla città purtroppo l'Ariston dentro l'Ariston dentro il teatro i posti diminuiscono in continuazione perché il palco si mangia le file anno dopo anno ma fortunatamente devo dire per chi non ha la fortuna di riuscire a entrare dentro dentro l'Ariston c'è tra palco e città il pala festival il casa Sanremo Santa Tecla insomma è un sacco di eventi qua a Villa Ormond insomma quindi si può vivere il festival in tutta la città e secondo me questa è la cosa più bella per i Sanremesi ma anche per coloro che vengono in vacanza o in gita per venire a vivere questa atmosfera festivaliera devo dire che oggi il clima è fantastico la nave sullo sfondo è bellissima quindi da Sanremese da Ligure sono felicissimo di questa atmosfera grazie a tutti grazie a tutti